Oggi vi voglio mostrare come si configura ed installa un cluster di failover di Hyper-V per cui andiamo a prendere due host fisici, due server fisici, su cui andremo a installare il servizio Hyper-V e i ruoli di clustering dei failover, vi faccio vedere come funziona nel caso in cui uno dei due host andasse down o se dovessimo effettuare un bilanciamento di carico delle macchine virtuali e quant'altro Allora per l'appunto ho creato due macchine virtuali, facciamo finta che siano due host fisici, tanto è uguale quindi abbiamo il nostro server fisico node 1 e il nostro server fisico node 2 su entrambi ho già installato Windows Server, in questo caso 2022 ma la configurazione è uguale anche da 2012 in poi è necessario come requisito di base che i due host siano a dominio per cui ci deve essere un terzo host fisico virtuale, quello che volete, che faccia da controller di dominio e avete bisogno anche di uno storage condiviso, uno storage centrale collegato in questo caso in IceCase ci sono diversi modi di farlo, io in questo video vi faccio vedere come si configura con una SAN quindi in IceCase potete acquistarla già pronta e tramite un connettore IceCase vi potrete connettere a questi dischi se non sapete come si fa o volete approfondire l'argomento lasciatemi un commento, ve lo spiego in questo caso quindi la prima cosa da fare è andare a configurare il connettore in IceCase quindi scriviamo IceCase su Start apriamo iniziatore IceCase, ci chiede se vogliamo ad ogni avvio del sistema avviare automaticamente il servizio IceCase ovviamente si e andremo a connetterci quindi ai nostri dischi in IceCase come destinazione metto l'IP dello storage, della SAN connessione rapida e lui andrà quindi a connettere il nostro connettore andiamo in volumi e dispositivi, clicchiamo configurazione automatica e vedremo che automaticamente verranno inseriti i due dischi che ho configurato precedentemente sulla SAN se volete fare delle prove, quindi potete capire come funziona potete benissimo utilizzare un NAS un NAS su cui installate il servizio IceCase ci configurate un connettore e potete andarlo ad utilizzare per creare questo cluster lo potete fare anche per assurdo con un'installazione di Windows Server perché nel server manager trovate la possibilità di aggiungere il target IceCase per cui anche lì potete andarlo a fare se siete interessati scrivetemi un commento che vi faccio vedere come fare in modo che anche voi potete, se non conoscete il cluster, provarlo senza acquistare nulla clicchiamo ok e se andiamo a questo punto in gestione disco vedremo che i nostri due dischi saranno stati aggiunti come se fossero due dischi locali eccoli qua, li andiamo a inizializzare allora, come vedete i dischi sono due uno da, vabbè ho creato un disco da 60GB su cui finiranno le macchine virtuali e un disco da 1GB il disco da 1GB ci servirà come quorum poi vi spiego cos'è una volta che andiamo a installare il servizio cluster 1GB è più che sufficiente per fare questa cosa quindi create due dischi uno da 1GB e uno dalla quantità necessaria e ospitare le vostre macchine virtuali una volta formattati il quorum lo possiamo formattare in NTFS lo andiamo a chiamare quorum mentre il disco che andrà a ospitare le nostre macchine virtuali lo formattiamo io solitamente utilizzo RFS come file system per i server che ospitano macchine virtuali anche questo se non sapete cos'è chiedetemelo una volta formattati andremo nella nostra macchina host 2 a fare lo stesso procedimento identico al nodo 1 l'unica differenza è che i dischi non dovrete formattarli e non vi preoccupate di metterli online va benissimo anche se rimangono offline, non ci importa ecco qua ok a questo punto siamo pronti per installare i nostri servizi quindi andiamo nel server manager clicchiamo aggiungi ruoli e funzionalità andiamo avanti e andiamo a selezionare sia il ruolo Hyper-V che il ruolo clustering di failover che troviamo nella seconda pagina eccolo qua clicchiamo aggiungi funzionalità andiamo avanti avanti ancora e a un certo punto ci chiede come se vogliamo consentire a server di trasferire e ricevere macchine virtuali con Live Migration lo andiamo a selezionare e mettiamo la spunta su Usa Kerberos per chi non sapesse cos'è il Live Migration ho fatto un video dedicato ve lo lascio qui sopra andiamo avanti lasciamo come predefiniti i percorsi per i dischi rigidi e clicchiamo su riavvia automaticamente la stessa procedura la vado a fare su Lost 2 ok entrambi i server si sono riavviati l'installazione è completata su entrambi a questo punto dal server manager se andiamo nel menu strumenti troveremo il nuovo menu gestione cluster di failover se lo andiamo a aprire siamo pronti quindi a configurare il nostro cluster clicchiamo quindi crea cluster assegniamo un nome al cluster e andremo ad aggiungere i nostri server fisici che possono essere due almeno due ma anche ovviamente di più andiamo a segnare i nomi dei server che dovranno far parte del cluster quindi nodo 1 e nodo 2 andiamo avanti a questo punto lui ci chiederà se vogliamo eseguire dei test per convalidare la configurazione del cluster seleziono no voi fatelo mi raccomando andiamo avanti e lui mi chiederà il nome del cluster lo vado a chiamare ad esempio izochi cluster e vi chiederà un ipv4 libero ok quindi ha bisogno di un ipv4 libero ne assegnate uno ed andate avanti e a questo punto lui eseguirà la configurazione del cluster andiamo avanti ancora perfetto configurazione terminata clicchiamo fine il nostro cluster è stato creato lo andiamo a aprire dal menu a sinistra e la prima cosa da fare è andare in archiviazione dischi ed andare a segnare dei dischi al nostro cluster come vedete lui li ha aggiunti automaticamente se così non fosse cliccato aggiungi disco li rileva in automatico e ve li aggiunge vediamo che il disco di controllo del quorum è quello che abbiamo creato prima da 1 giga lo andiamo a specificare direttamente cliccando col destro sul nome del cluster cliccando altre azioni configura impostazioni nei quorum del cluster da qui possiamo andare a segnare un quorum vi dicevo prima che vi avrei detto ora cos'è questo quorum il quorum serve a tutti i nodi del cluster nel caso in cui ci fossero dei problemi ok quindi se il cluster ha dei problemi tipo un nodo è andato down deve in qualche modo comunicare agli altri host che lui è down ad esempio facciamo ad esempio che il nodo 1 vada down deve comunicare al nodo 2 che è down ma se è down come fa a comunicarlo non può farlo appunto nel quorum il quorum serve a tutti gli host del cluster andare a verificare eventuali anomalie del cluster e andare a intervenire quindi subito sulla configurazione quindi andiamo a selezionare un quorum di controllo andiamo avanti e selezioniamo un disco di controllo perché noi abbiamo un disco dedicato a questo che è proprio questo qua il disco 2 quello da 1 giga lo andiamo a selezionare clicchiamo avanti e lui assegnerà il quorum quindi a questo disco l'altro dispositivo di archiviazione l'altro disco di archiviazione quindi quello da 60 giga dovremo renderlo disponibile a tutti i nodi del cluster quindi cliccheremo col destro sopra lui e faremo aggiungi a volumi condivisi del cluster cosa succede quando io faccio questa operazione che se voi andate in esplore risorse dei vostri server host che fanno parte del cluster andiamo in C troverete una nuova cartella chiamata cluster storage che se andiamo a aprire troveremo volume 1 in questo caso questo in realtà è il disco da 60 giga che risiede in realtà nella SAN perché? perché le nostre macchine virtuali che andremo poi a creare ora vi farò vedere andranno quindi archiviate in questo percorso in modo che questo percorso sia visibile a tutti gli host i nodi del cluster vedete? anche nel nodo 2 vado a vedere lo stesso volume in modo che se un qualsiasi dei nodi presenti nel cluster venisse a mancare magari il nodo 1 va down come vi dicevo prima il nodo 2 può prendere in carico quella macchina virtuale perché il disco virtuale di quella macchina risiede su uno storage condiviso ok? spero di essermi spiegato ritorniamo quindi nella nostra gestione cluster di failover e a questo punto se andiamo ad esempio in nodi ci fa vedere tutti i nodi ci fa vedere che sono attivi se andiamo in ruoli siamo pronti a creare le nostre macchine virtuali ne creiamo alcune ad esempio innanzitutto ci chiede in quale nodo vuoi creare la tua macchina virtuale lo creiamo ad esempio nel nodo 1 e la andiamo a chiamare avanti vm1 e la andiamo a archiviare attenzione non nella cartella di default ma in questo pc disco locale c cluster storage volume 1 in modo che sia come vi ho spiegato visibile a tutti i host andiamo avanti assegniamo una memoria adesso vabbè gli do una memoria proprio minima senza LAN senza nulla giusto per farvi vedere come funziona clicchiamo fine e lui creerà la nostra virtual machine ecco la nostra macchina ne creiamo altre giusto per farvi vedere stavolta magari su un nodo 2 ecco qua le nostre macchine virtuali create le andiamo ad avviare tutte e tre come vedete sono tutte e tre in esecuzione due sul nodo 2 e una sul nodo 1 se noi clicchiamo col destro su una di queste macchine e clicchiamo proprietà potremo andare a specificare se vogliamo che queste macchine virtuali siano gestite da tutti i nodi in questo caso ne ho solo due ma immaginate che se ne fossero che so 20 posso andare mettendo la spunta a dirgli no ok voglio che questa macchina sia gestita dal nodo 1 dal nodo 3 dal nodo 4 e dal nodo 5 non dal nodo 2 ad esempio oppure possiamo lasciarle così o selezionarle tutte e andare addirittura a specificare la priorità preferita per il nodo quindi vi vado a dire che questa macchina io preferirei che sia che giri nel nodo 2 risorse permettendo e disponibilità permettendo cliccando ok lui non la sposta subito come vedete lei rimane nel nodo 1 magari se la spegni e la riaccendi dopo un po' la accende sul nodo 2 sempre se il nodo 2 ha abbastanza risorse e abbastanza libero altrimenti comunque rimarrà qui sul nodo 1 fino a che il sistema non deciderà che sarà meglio spostarla nel 2 come avete voi preferito diciamo che è una preferenza ma il sistema non è obbligato a spostarla potrei spostarla manualmente grazie alla live migration cliccando tasto destro cliccando sposta live migration lui mi fa vedete miglior nodo possibile quindi in base alle risorse il nodo spostare questa macchina oppure selezionare manualmente un nodo ok e la posso spostare se andiamo nelle proprietà del cluster noi vedremo che c'è una sezione con scritto bilanciamento se andiamo qua lui ci dice vuoi o meno abilitare il bilanciamento delle macchine virtuali quindi vuoi che il sistema in automatico esegua un bilanciamento automatico delle macchine quindi sposti le macchine tra i vari host al seconda del carico che hanno se deve farlo sempre o solo quando viene aggiunto un nodo aggiuntivo un host aggiuntivo un server fisico aggiuntivo al cluster e con quale aggressività farlo quanto spesso lui deve andare a verificare il carico di vari server e andrà a spostare una volta fatto questo il nostro cluster per assurdo è già attivo e funzionante a questo punto vi faccio un esempio se io vado proprio brutalmente a mettere in pausa la macchina virtuale in questo caso ma ricordatevi che è pur sempre un host fisico lo vado a sospendere il nodo 2 automaticamente andrà down le macchine passano in stato non monitorato e i nodi il nodo va a finire in stato isolato che significa il sistema di default ha un tempo di 4 minuti entro la quale il nodo può tornare up se non torna su le macchine verranno migrate a uno o più nodi disponibili in questo caso ne ho due quindi il sistema in automatico migrerà le macchine tutte al nodo 1 questo tempo si può anche cambiare ora vi mostro anche come però tenete in considerazione una cosa quando succede una cosa del genere la macchina ovviamente non può essere migrata come se stesse effettuando un bilanciamento ma la macchina viene proprio riaccesa nel nodo attualmente attivo quindi è bene che questa operazione non venga fatta troppo spesso perché può succedere qualsiasi cosa può essere andato giù uno switch per 10 secondi può essersi non so andata giù la rete per qualche motivo cioè comunque sia un tra virgolette una motivazione tra virgolette stupida che ha fatto andare giù il nodo 2 magari per qualche secondo se noi andiamo a ridurre troppo questo tempo ci troviamo con le macchine che vengono spendere accese in maniera brutta ok spero di essermi spiegato logicamente i 4 minuti forse potrebbero essere troppi io solitamente un pochino lo abbasso ecco qua vedete le macchine sono state spostate automaticamente al nodo 1 senza assolutamente nessun intervento umano per cui il sistema è un automatico ha spostato tutte le macchine e le aree accese in un host in un nodo funzionante a questo punto il nodo 2 viene comunque sia viene mantenuto in uno stato di disattivato non più isolato ok quindi rimane in uno stato isolato per i 4 minuti che vi dicevo e poi passano in stato isolato se noi andassimo a riaccendere il nodo 2 vedrete che il nodo 2 ritornerà in stato attivo dopo qualche minuto e le macchine verranno automaticamente bilanciate nel tempo nel caso in cui abbiate un cluster di failover come in questo caso andiamo innanzitutto a riattivare la macchina il sistemista può benissimo mettere giù un nodo in maniera ovviamente programmata quindi può andare a spostare le macchine con la live migration nei nodi attivi perché magari deve fare manutenzione ad un nodo e poi andarlo a spegnere in modo che il sistema lo reputi isolato e intervenire fa una manutenzione non so va pulito va ampliato va fatto un upgrade va sostituito potete fare tutti i lavori che volete e non dovete preoccuparvi della della continuità di servizio ok abbiamo riacceso il nodo vedrete che a breve ritornerà attivo nel frattempo vi faccio vedere come si modificano queste cose si fa da powershell non credo che sia stato aggiunto niente dalla dalla guide windows server 2022 perlomeno non credo se lo sapete scrivetelo nei commenti ma non lo so io per carità andiamo ad aprire una console di powershell andiamo a scrivere get cluster barra fl asterisco lui che fa con questo comando mi fa vedere tutte le configurazioni del cluster eccole qua se noi andiamo a vedere che silenzi default e period vedete 240 secondi sono i famosi 240 secondi che lui aspetterà prima di contrassegnare un host come disattivato noi possiamo andare a spostare questo dato non solo c'è una cosa che non vi ho detto vedete qua che c'è quarantaine threshold assegnato a 3 cosa significa se nell'arco di 2 ore l'host magari che ne so 2 come in questo caso è andato down dovesse rifarlo per 3 volte di seguito quindi 3 volte va in stato di disattivo contrassegnerà quell'host come in quarantena lui dice no ok quest'host ha qualche problema magari si riavvia ha qualche disconnessione di rete io non posso farci affidamento e l'host viene messo in stato di quarantena ok quindi sarà poi vostro dovere andare a vedere cosa ma il sistema lui lo esclude ok potete andare a cambiare anche questo parametro e andare a diminuire aumentare questo valore come si fa se noi andiamo a scrivere aperta parentesi get cluster punto il nome del valore diciamo quindi resiliency default period ok uguale il tempo 10 secondi metto pochissimo è giusto perché almeno vi faccio vedere come funziona a questo punto se noi andremo a spegnere nuovamente il nostro nodo 2 lo vado a rispegnere vediamo che in 10 secondi massimo vi faccio vedere l'orologio 21 17 ok aggiorno ecco qua tutte già funzionanti sul nodo 1 vedete ora per evitare che il video diventi troppo lungo non vi sto a spiegare altri concetti questo era perlomeno una configurazione di base di un cluster di failover realizzato con apervi ricordiamoci che la licenza è integrata nel sistema operativo per cui farlo non vi costa assolutamente nulla e questo è un grande vantaggio se il video ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace iscriviti al canale attiva la campanellina e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate che argomenti vorreste vedere nel canale ciao alla prossima